13 anni dal terremoto del 6 aprile, la ricostruzione è andata avanti ma i problemi non mancano. La ricostruzione privata dopo 13 anni dal terribile terremoto del 2009 sta rallentando a causa dei noti problemi come caro materiale e difficoltà di approvvigionamento. Per questo alcuni cantieri sono bloccati e per quelli che devono partire non si trovano imprese disponibili. Ma c'è anche da dire che il rallentamento c'è perché le ultime pratiche sono le più complicate in effetti. Il quadro è pressoché definito comunque per la privata. presentate circa 30.000 pratiche di contributo, restano da istruire poco più di 830 pratiche. Segnali positivi invece, secondo il titolare dell'Ufficio Ricostruzione del Comune Salvo Provenzano, arrivano dalla ricostruzione pubblica che finora ha sempre viaggiato invece a una velocità diversa. Sul fronte scuole si va avanti, questo è stato uno dei grandi cruci della città. Sono in procinto invece di partire diversi cantieri grazie allo snellimento delle procedure. Ci sono sicuramente segnali positivi, segnali legati al fatto che abbiamo, proprio veniamo adesso dalla consegna di un ulteriore intervento sull'edilizia scolastica, la scuola di Pettino. Oggi sono arrivati, veniamo proprio da lì, sono arrivati i ferri in cantiere. Quando arrivano i ferri in cantiere vuol dire che il cantiere finalmente parte. Giovedì prossimo abbiamo una riunione a Roma per programmare nuove risorse perché oltre ai cantieri che stanno per partire abbiamo bisogno di un ulteriore risorse ad esempio per la scuola di Paganica, per la scuola di Sassa, interventi che vogliamo far partire entro il 2022. Anche grazie alla convenzione tra segretariato beni culturali e uffici speciali c'è un'accelerazione delle procedure perché sono stati affidati a loro 30 interventi di edifici sottoposti a tutela, chiese ma non solo, mura urbiche, chiesa di Sant'Agostino e San Marco per fare degli esempi. L'ultimo miglio manca, si è più volte detto, ma vanno immediatamente risolti i problemi che ci sono. Il titolare dell'ufficio speciale inoltre insiste molto sulle risorse legate al PNRR. Ci saranno risorse e progetti importanti, potranno dare un nuovo volto alla città. È l'anno del PNRR in effetti, è l'anno in cui 1 miliardo e 800 milioni d'euro sono stati programmati per le aree colpite del sisma del 2009 e del 2016. Sono interventi straordinari perché ci permetteranno di fare un'attività di ricucitura tra quella che è stata la ricostruzione di questi territori e quello che sarà una nuova visione di questi territori con il loro sviluppo. Noi siamo fortemente determinati e impegnati in questi ambiti, ambiti di rigenerazione urbana, ambiti di mobilità sostenibile, ambiti di transizione ecologica e ambiti legati alla digitalizzazione perché la città in ricostruzione possa avere un nuovo volto anche grazie a queste risorse.